Concludiamo il 2023 al meglio con una vittoria importantissima contro il Crotone, una diretta concorrente in classifica e soprattutto si è visto un Avellino con carattere, determinazione e coraggio che era forse quello che era venuto meno o meglio agli occhi dei tifosi nelle ultime partite. Una vittoria importante, una vittoria cercata, voluta e ottenuta dai ragazzi sin dal primo minuto assumendo un atteggiamento da squadra che sa quello che vuole non sono d'accordo quando si dice che nelle passate partite la squadra è stata un po' timorosa se non nel secondo tempo di Benevento che sono stato io il primo a dirlo dove la squadra non mi era piaciuta nell'atteggiamento e nella voglia di portare a casa il risultato anche se poi aveva fatto una grandissima fase difensiva e quindi quello ci ha permesso poi di portare a casa il risultato ma oggi la squadra nonostante il vantaggio ha continuato a creare, ha continuato a spingere creando 4-5 palle golle nel primo tempo e altre due se non sbaglio nel secondo tempo con D'Angelo rischiando poco se non quell'occasione del gol annullato alla fine e poi quell'indecisione di Tiago, di Cionec ma insomma io credo che la squadra oggi per quanto fatto nel complesso e nell'arco dei 95 minuti abbia meritato la vittoria Assolutamente, ha meritato la vittoria proprio per le tante occasioni che diciamoci la verità forse divorate dall'Avellino ma al tempo stesso le vorrei chiedere che cosa è cambiato dall'Avellino perché oggi abbiamo visto 13 conclusioni verso la porta e 7 nello specchio quindi sono dati che voglio dire ribaltono un poco l'astinenza di tiri vista contro il Taranto perché si è visto un carattere diverso allora mi voglio anche domandare forse con le squadre più aperte tendiamo a rendere di più Non è che tendiamo noi a rendere di più ma è normale nel momento in cui di fronte c'è una squadra che si spinge con tanti uomini sopra la linea della palla si creano quegli spazi e quindi le occasioni si possono se sei bravo, se ci credi, se spingi è chiaro che si possono creare è molto più difficile creare situazioni da gol quando incontri una squadra che lavora con 11 effettivi sotto la linea della palla perché ci sono meno spazi e quindi bisogna trovare attraverso delle caratteristiche la superiorità numerica nell'uno contro uno cosa che non siamo riusciti a fare col Taranto perché qualche caratteristica da questo punto di vista ci mancava ci è mancato quel guizzo ma la squadra non è che oggi ha creato 13 situazioni col Taranto non ci è riuscita perché ha avuto un atteggiamento diverso l'atteggiamento è sempre lo stesso propositivo quello di spingere è chiaro che nel momento in cui ci vengono concessi gli spazi la squadra spinge e riesce a trovare delle situazioni nel momento in cui quegli spazi non ci vengono concessi perché lavorano con 11 giocatori sotto la linea della palla è chiaro che non facciamo più fatica ma è altrettanto vero che noi dobbiamo lavorare per trovare le soluzioni anche in quelle circostanze Coppia Sgarbi-Patierno oggi abbiamo visto un grande feeling fra i due attaccanti ma in realtà tutta la squadra si è mossa bene ma Sgarbi ha dato quella velocità quel carattere in più sotto il profilo offensivo che conferma l'importanza di questo calciatore per l'Avellino ma le voglio chiedere che cosa dice sempre Sgarbi perché l'abbiamo visto sempre molto, non dico critico ma sempre molto attento ai movimenti ma soprattutto ai falli che andava a commettere Lorenzo Sgarbi in campo Sì, quando l'ho richiamato tutte le volte l'ho richiamato spesso era per dei falli stupidi dei falli inutili che lui spesso commette in maniera ingenua e basterebbe poco per evitarli perché poi sulle palle native ci creano sempre delle situazioni pericolose e quindi lo sappiamo e dobbiamo cercare di evitarle per il resto i richiami fatti a lui sono dei richiami dal punto di vista tattico perché oggi dal punto di vista tattico era una partita che era stata preparata in due modi in fase di possesso e in fase di non possesso e quindi c'era bisogno di richiamare un po' di più l'attenzione perché poi anche loro durante la gara si sono spostati nella costruzione prima a tre, poi a quattro poi sono ritornati a quattro insomma hanno fatto un po' di situazioni che ci hanno messo in difficoltà lo sapevamo perché le avevamo visti e quindi avevo bisogno da questo punto di vista di guidarlo un po' di più In ultimo dal 2024 lei che cosa vuole dalla sua squadra in attesa dei primi rinforzi di calciomercato che non è questo il momento di parlarne ma ne parleremo con l'anno nuovo La mia squadra è da me stesso e dal mio staff è lo stesso principio che ho espresso il primo giorno bisogna migliorare e fare meglio tutto ciò che è stato fatto bene perché si può sempre migliorare fino all'ultima giornata di campionato deve essere questo il nostro concetto il nostro principio la nostra idea e poi al di là di quello che succederà nel mese del mercato Grazie mille mister Grazie a voi Grazie a voi